Italian Certificate Awards 2022, siamo in compagnia di Roberto Albano di Unicredit che è venuto a ritirare il premio come emittente dell'anno. Bene, quali sono le caratteristiche, i punti di forza della vostra offerta che vi hanno permesso di vincere questo importante riconoscimento? Beh, guardi, l'ultimo anno è stato un anno particolarmente intenso e di grandi cambiamenti. Abbiamo lavorato tanto sulla offerta in termini di numerosità di prodotto e anche in termini di ricerca, di innovazione e di prodotti adeguati ad un mercato che stava cambiando radicalmente. Pertanto, quello che ci ha consentito oggi di raggiungere questo premio è stata sicuramente una gamma ampia di prodotti. Abbiamo messo più di 1200 prodotti quest'anno e abbiamo collocato quasi 3 miliardi di euro sul mercato primario. Per cui, quello che abbiamo fatto è stato apprezzato dai nostri distributori è stato apprezzato dal mercato. Questi numeri lo dimostrano e lo dimostra anche il fatto che continuiamo a crescere in termini di partner e di distributori che vogliono operare con noi. Siamo arrivati a circa una ventina di distributori attivi sul mercato italiano che distribuiscono i nostri prodotti sul mercato primario e quindi, diciamo, una serie di fattori legati alla ricerca di una gamma adeguata e anche a una partnership forte con i nostri distributori ci hanno consentito di lavorare molto bene e tanto quest'anno. Perfetto. E guardando avanti, invece, avete qualche novità in cantiere da rivelarci? Guardi, oggi ci troviamo di fronte a un momento in cui bisogna studiare qual è la nuova esigenza e qual è il nuovo paradigma per gli investitori. Quindi un mondo a tassi più alti, a tassi positivi alti e di inflazione ci porta a dover ripensare la nostra offerta e quindi ripensare i nostri certificati di investimento. Quindi vediamo che sicuramente cresce la quota di capitali protetti, di prodotti a capitali protetti. Noi dobbiamo essere bravi a conquistare quella quota di mercato. Lo stiamo facendo con tanta dedizione e innovazione in tal senso. quello che, diciamo, ci viene incontro è sicuramente la dutilità del prodotto. Quindi il certificato è un prodotto che poi ha la capacità di adattarsi a qualsiasi fase di mercato. Per cui anche in una fase di cambiamento come questa troveremo l'utilizzo del certificato e soprattutto con l'ascolto dei nostri partner sono sicuro che continueremo a far bene anche nel 2023. Ottimo, grazie mille, complimenti. Grazie.